Ennesimo riconoscimento per la Ferrari 488 GTB, la berlinetta V8 Turbo da 670 CV, che ha già vinto molti premi da parte dei media di numerose nazioni ed è una delle vetture del cavallino rampante più premiate in assoluto. E' stata eletta anche Supercar of the Year dal magazine britannico Rob Report. Motivazione? La 488 GTB tocca le 60 miglia all'ora in 3 secondi e accelera fino a 205, simile in tutto e per tutto ad un missile terra-aria, anche considerando gli standard Ferrari straordinariamente veloci. Land Rover continua ad aggiornare i contenuti e le offerte della Range Rover Evoque e presenta la nuova versione in tiratura limitata Evoque Ember Special Edition, ordinabile anche se non in Italia per soli tre mesi, con consegni al via da settembre a prezzi da 47.200 sterline. La variante prende spunto dal ricco allestimento HSE Dynamic, cui aggiunge cerchi in lega da 20 pollici satin black, finiture nere delle griglie e dei terminali di scarico, badge esterni personalizzati, sedili in pelle e ebony black con cuciture pimiento red e finiture piano black per la plancia. La Ember Special Edition è inoltre caratterizzata da verniciatura bicolore Santorini Black e Firenze Black. A domani per altre news. La Ember Special Edition è inoltre caratterizzata da verniciatura bicolore Santorini Black.